Hehehe, sono Pazzox e ben ritrovati in questo nuovissimo video. Oggi, il nuovissimo vlog. Un vlog tanto atteso per voi che siete stati a Romex insieme a me ed è stata un'altra esperienza magnifica. Ho incontrati tantissimi colleghi, pura fibra italiana, Shikoku Jin e non gli ho offerto la pizza perché non siamo a Napoli. Ho incontrato anche Guizarjo, una simpaticissima persona. Dabbie, Maman e soprattutto Hermione. E ovviamente tutti mi fa un pazzo di che, mamma mia, eravate tantissime, ma tantissime foto ho fatto, mi hanno aggredito, mi hanno abbracciato, di tutto e di più. È stata veramente un'emozione fantastica. E ho paura del Comic-Con perché il Comic-Con, ne sono sicuro per i mille messaggi che mi arrivano ogni volta, non vedo l'ora del Comic-Con. Anch'io non vedo l'ora del Comic-Con. Ma adesso parliamo del Romics. Ecco a voi un vlog che purtroppo non molto lungo perché sto provando la nuova videocamera ad utilizzarla per i vlog e viene bene però per non riuscire a capire la sua funzione però per il Comic-Con il vlog sarà molto molto più lungo. Che dire pazzoidi? Buona visione! Il treno arriverà a Venezia Santarucina e per i vlog e i compagnatori sono finiti di scendere anche per il... Il treno arriverà a Venezia Santarucina e per i vlog e i compagnatori sono finiti di scendere anche per il... Siamo in una casa perfetta con la luce molto... Molto ritremevole da utilizzare. Molto soft. 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 Poi abbiamo la segretaria, facciamo dire la segretaria che sta pulendo il bagno proprio in questo momento. Segretaria! Questo sono io, che bello. E lì si può intravedere Lele che adesso è anche lui che fa parte del... Una maglietta stampa. Fantas o taz, si è scritto al contrario. Sì, si vede al contrario, sì. Mai usata, la maschina, no mai usata. Mai usata. Mai usata. Ecco la nostra segretaria. Il King. Dobbiamo trovare l'orsetto rosa. Che cazzo? Obiettivo principale. Quella è per forza. È un'esimilità. La bandiera di Firenze sempre. Sì, è vero. E dall'altra parte, vedo i gancetti qui. Non sono le maniche. Sono comunque le maniche, erano quelle. Non ce le hai, non lo vedo. Non so faccio. Vai, vai, in fronte di camera. Non so. Tu non devi vedere, ti accompagniamo noi. Ho fatto la foto su noi corse. Ciao. Sono con il narratore. Ma io non vedo niente. Non devi vedere niente. Non ti preoccupare, ti assisto io. Lo abbiamo perso. È finito. Salve. Io ho paurissimo. Non vedo niente. Vai attento. Vado. Corro. Ti stai inquadrando i piedi. Un giorno. Un giorno. Un giorno. Il venerdì. Certe volte il Romics è proprio triste perché non c'è nessuno. Piero Angela. Pallesemente Piero Angela. Guardate. Ciao. Le vedete le 27 lauree? Glielo leggete in faccia? Ciao Lele. Ciao. Facci vedere i tuoi acquisti. Ok. Primo è Iron Man. Lele, se li essi tacciati tutti. Siamo al cinema. In realtà siamo morti e siamo in paradiso. Mi piace questo film ragazzi. Bello. Bello, è piaciuto? Si. Si chiama Schermo Nero. Stiamo già facendo l'unboxing di Pasqua. Quando siamo ancora... Quando non siamo ancora a Pasqua. Giusto Lele? Giustissimo. Quindi... Non andai rotta bene. No, si è rotta. La parte è giusta per... Ma è un uovo? Vediamola così. C'è la gallina? C'è stata la sovrapposizione di... Poi di Pasqua che si perdevano. E noi li stiamo consumando. Si è aperto, ok. Non c'è stato nessun taglio del montaggio. Ma spingi qua e si apre. Come si apre? E c'è l'altra cioccolata? No. È un dinosauro. Ma che bei denti che ha. È un dinosauro. Un po' strano come un dinosauro però. Non c'è un po' di problemi. È Giorgi qui. Ma hai fatto di me? Cioè, di cacca. Colore. Ha anche le istruzioni. Abbiamo trovato questo qua. È un nuovo personaggio della Marvel questo. Non siamo capaci a montarlo ma... Ha montato Iron Man prima col braccio. Lele, ma tu hai mai sentito parlare del Venom di Parco Leonardo? No, di Parco Leonardo non esiste. Oddio! Adesso sei più riconoscibile con questa felpa. Ma... Disse l'uomo ancora cinque minuti. No, veramente... No, dai. Allora, devo fare un annuncio promozionale insieme ai miei illustri colleghi. Ogni foto con noi sono 27 euro. E 30. E 30. Più IVA. E automaticamente acconsentite ad iscriverci al nostro padre. Aria! 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 E' un po' diario è pronto. Aria! E non si saluta. 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 Non vorrei dire. Ma non si saluta. Siamo cari. Vi asfaltiamo tutti. Non vorrei dire. Mi scusi ma non si saluta. Non si saluta. E non si saluta. Non vorrei dire. Ma il professionista non gli ha fatto pagare il biglietto. Come... Entra da sgamo. Entra da sgamo. Un giorno imparerai. Un giorno è padawan. Lele, lelelelele. Dimmi. Tu sei. Così. La sua reazione. La sua reazione. La sua reazione. E lui è un monespressivo. No, no. Bene, allora che facciamo? Così? E si prende, si prende o non si prende? Scusso. Questa è la situazione un po'... Va bene. Va bene tutto. Signor Pionate, Pionate, Esco. Posso finire pure io? E che cazzo. Ma quanti personaggi siamo... Siamo entrati in Fortnite per davvero. E i cassonetti. Ma cosa ci fate questi cassonetti? Attenzione, i nostri cari soliti sta osservando questi minunti. Si sa che tra i... Vabbè. Il biglietto che... De fatti. Io non l'ho pagato il biglietto, quindi... Guardano Mortal Kombat. Eh ma questo lo so fare pure io, lo so il campione mondiale di Mortal Kombat. Mi piace questo nuovo Bukin Mama. Animal Crossing. Ciao. Salve. Ma siamo in diretta? No. Allora non posso salutare mia madre. No. Eh vabbè. Ragazzi stai filmando Lele, tu firmisci un cappello in Italia. Stavo pensando se fare il cosplay del Mago Thelma con i... Lele di Dark Souls. Tutti e dieci, tutti e ogni perone di dito. Che che? Oppure Rita Levi Montalcini. Ma perché? Ma perché? Secondo voi è meglio il cosplay del Mago Thelma o Rita Levi Montalcini? Salve. Ma perché? La chiappa. Di più successi. Eh. Spero che questo vlog vi sia piaciuto. Vi ricordo che al Comic Con sono tutte e quattro i giorni presenti. Mattina e pomeriggio. Quindi non vi preoccupate. Che dite pazzoi di noi come sempre ci vediamo con dolcissimo e carnissimo. Eh eh. Spero che ci vediamo con dolcissimo.